Uno spazio comodo e arredato per allattare o cambiare i neonati. Le mamme che studiano o lavorano alla Mater Studiorum di Bologna in via Andreatta hanno a disposizione il nuovo Baby Pit Stop inaugurato dalla prorettrice alle risorse umane Chiara Elefante e dal rettore Francesco Bertini. E l'altro per l'iniziativa in sé. Io credo che abbia moltissimi aspetti per cui questa iniziativa può renderci tutti soddisfatti ma io ne volevo citare un paio. Il primo è che dà valore al concetto di accoglienza che è uno di quei concetti che sono alla base di un'istituzione come la nostra ma che ogni tanto è facile dimenticarsi. I nostri luoghi e i luoghi dell'università, l'università è un bene comune, è nata ed è qualcosa per la società, per i nostri studenti, per i cittadini e come tale necessariamente deve essere accogliente e offrire dei servizi di qualità. Ovviamente in primis ai nostri studenti ma non solo ai nostri studenti. Un locale ispirato all'iniziativa promossa dall'Unicef che potrebbe dare il via alla creazione di altri spazi simili dedicati alle mamme, forse il prossimo firmato Univo potrebbe essere in un distaccamento in Romagna. Cosa piccola ma credo di alto valore simbolico e speriamo che contamini anche gli altri luoghi del nostro grande insediamento. Mi sono sbilanciato prima con i giornalisti e ho detto che il prossimo lo faremo in Romagna, avevi sentito bene.